e dopo che tutti quasi quelli del sassuolo hanno parlato chi poteva mancare anche a parlare chi poteva mancare l'allenatore ovviamente Dionisi che ha fatto a chiudere le sue dichiarazioni ha detto daremo battaglia non regaleremo niente saremo dei guerrieri quasi fosse necessario ragazzi ricordare questa cosa come se avessero paura che qualcuno poi li possa giudicare per un eventuale biscotto noi non abbiamo bisogno di nessun biscotto e non lo faremo mai noi siamo il Milan però anche Dionisi che fa queste uscite veramente non lo so quello che mi fa arrabbiare un pochino avete mai sentito voi negli ultimi giorni parlare qualcuno della Sampdoria eppure più o meno siamo lì nel senso anche la Sampdoria dovrebbe dar filo a torcere all'Inter anche la Sampdoria non dovrebbe far passare l'Inter dovrebbe rendergli la vita difficile dovrebbe fare la partita no ovvio che non è necessario ricordare che una squadra si deve comportarla tale e deve fare il suo lavoro però su Inter Sampdoria silenzio assoluto in questi giorni ragazzi sente parlare solo quelli del sassuolo che continuano a dire quello che dovrà fare quello che non concederanno quello che butteranno in campo eccetera eccetera mi sembra una cosa veramente bizzarra per non dire assurda però se secondo me se ho un modo per innervosire non ci stanno nemmeno riuscendo perché noi siamo super concentrati non ce ne frega niente però fa ridere ragazzi se ci pensate fa ridere della Sampdoria non parla nessuno di Inter Sampdoria Sassuolo Milan ha parlato praticamente tutta la squadra manca solo che parlano i preparatori e porta borracce e dicono a loro sul fatto che siano guerrieri e che faranno battaglia e siamo e siamo a posto così e poi non se ne parla più va bene lo sappiamo che non sarà una partita facile perché lo sappiamo tutti noi rossoneri siamo coscienti di questa cosa che non sarà una partita facile però il Sassuolo ha necessità di ricordare che loro sono guerrieri che loro sono forti che loro lotteranno fino alla fine che sputeranno sangue no lasciamoli parlare poi il campo vedrà che avrà ragione io ne sono convinto detto ciò una notizia abbastanza particolare che un po fa riflettere ragazzi è il fatto che Ibrahimovic abbia rinunciato a partecipare alle gare due o tre gare che sono adesso che deve fare la Svezia e non abbia la sua disponibilità non lo so non so cosa pensare non so cosa ne pensate voi secondo me è un indice abbastanza importante ovvio che non sta bene Ibrahimovic che non ha i minuti nelle gambe però lui anche quando stava male comunque ha sempre voluto essere presente con la nazionale anche solo in panchina anche solo vicino alla squadra perché lui ha fatto così lo vedete anche con il Milan lui è sempre vicino alla squadra è sempre vicino ai ragazzi è un indice un po' particolare secondo me qualcosa vorrà pur dire vediamo certo che il Milan ha fatto sapere che Ibra o giocatore o non giocatore vuole assolutamente che rimanga nella società queste sono dichiarazioni ufficiali Ibra deve rimanere di questo ne sono contento anch'io assolutamente fuori dentro il campo Ibra deve stare al Milan soprattutto se dovesse concretizzarsi quello che deve succedere insomma parlavo un po' con voi ho letto un po' di messaggi anche riguardo all'eventualità di un giocatore perché stanno rimbalzando un po' in rete notizie abbastanza importanti un po' battute da tanti giornalai tanti giornalisti riguardo al fatto che il Milan sia molto forte su Gabriel Jesus Gabriel Jesus giocatore del Manchester City attaccante che con l'arrivo di Haaland e mi pare anche Alvarez non mi ricordo come si chiama esattamente comunque sarebbe chiuso e non avrebbe spazio avrebbe chiesto anche tra l'altro la possibilità di essere ceduto molti sono contenti ne sarei contento anch'io un giocatore alla Madonna ragazzi permettetemi di dirlo però c'è un discorso da fare c'è un discorso da fare che riguarda proprio questo giocatore nel senso che comunque a parte che c'è l'Arsenal che è molto forte il suo giocatore ma già da tanto tempo e pare che il procuratore stesso di Gabriel Jesus abbia detto che comunque è molto interessante il progetto dell'Arsenal e lo stanno valutando quindi detto ciò è già un punticino a favore dell'Arsenal ma al di là di questo c'è un valore di cartellino che è molto elevato e lo stipendio no perché Gabriel Jesus percepisce intorno ai 5 milioni di euro certo che se va via da una società non va certo a cercare di prendere di meno qualcosa in più vuole e qualcosa in più vuol dire almeno 6-7 milioni 6 e mezzo facciamo mettiamola così e in questo momento in questo momento storico del Milan in questo momento di transizione e di incertezza non è certo una garanzia non è certo possibile valutare in questo momento solo dalla parte di Elliot questo giocatore a netto dei giocatori che già conosciamo fino alla nausea che sono Botman, Sanchez e Orighi che sono giocatori già presi, predisposti dalla società Milan nel recente passato quindi sono affari già decisi prima dell'arrivo di Inves Corp e di Uccello Rosso Gabriel Jesus è una valutazione diversa ragazzi è una valutazione diversa perché ha un costo di cartellino elevato perché comunque è un ringaggio particolare a parte comunque il discorso del decreto crescita però dal mio punto di vista se mai fosse è un giocatore che varrà valutato con la nuova eventuale proprietà non con quella attuale di Elliot Elliot certo farà un mercato importante, farà un regalo importante a Mr. Pioli ma secondo me dal mio punto di vista Gabriel Jesus è un giocatore particolare da valutare bene bene e non è nelle corde in questo momento io credo di Elliot è vero che lì davanti comunque c'è l'incertezza Ibra che potrebbe lasciare a fine stagione Giroud che comunque ha 35 anni Lazetich che comunque andrà sicuramente in prestito chiaro che lì davanti qualcun altro ce n'è bisogno e questo lo sappiamo il solo Righi non basta ragazzi, il solo Righi non basta è per questo che in quest'ottica si stanno valutando anche altri attaccanti però attaccanti di una determinata caratura ragazzi permettetemi di dire che in questo momento secondo me è difficile anche prenderli in considerazione l'interesse c'è sicuramente però aspettiamo un attimino intanto occhio a domenica e aspettiamo che nei prossimi giorni usciranno altri incitamenti di guerra, di battaglia, di furore da parte dei Nero Verdi lì in fondo a Sassuolo io come sempre vi auguro buona giornata sempre Forza Milan, ci sentiamo domani e adieu